Per la seconda volta, a distanza di soli sette giorni, un nuovo furto di cavi elettrici aerei con l'intento di ricavarne rame ha mandato in tilt il traffico delle ferrovie del nord barese e è accaduto intorno alle due del mattino ed è stato, informa un comunicato dell'azienda, un furto fotocopia di quello dello scorso 2 dicembre dopo aver mandato in corto circuito le alimentazioni in persone non ancora identificate hanno tagliato e portato via circa due chilometri di linea area di contatto in rame nel tratto compreso tra Bitonto e Terlizzi, inevitabili disagio al traffico ferroviario pesantemente rallentato dall'accaduto, squadre di operai a lavoro da ora per cercare di riportare la situazione alla normalità e andranno avanti ininterrottamente fino al pieno ripristino in entrambe le direzioni è una situazione ormai insostenibile, afferma il direttore generale di Ferro Trambiari, ingegner Massimo Nitti facciamolo impossibile per ridurre il disagio all'utenza ma il danno è di tali dimensioni da rendere impossibile una regolarizzazione del servizio in tempi brevi è una situazione che non possiamo assolutamente risolvere da soli che richiede un urgente intervento delle istituzioni e di tutti coloro che devono impedire che tutto questo accada non dimentichiamo che il diritto alla mobilità dei cittadini passa anche attraverso la salvaguardia delle infrastrutture a essa deputate mi rendo perfettamente conto della difficoltà di controllare un territorio così vasto continua Nitti ma ritengo sia sicuramente più facile individuare chi successivamente ricetta il materiale rubato e questo secondo me conclude il vero cuore del problema al di là di chi fisicamente effettua il furto per ricavare qualche euro mettendo a rischio la propria vita